non perdetevi la prossima puntata di 24 ruote possibili motori in onda mercoledì 14 febbraio san valentino alle 21 su on tv web la paura nel nostro mestiere non può essere una componente però la coscienza nella gestione di quella paura deve essere un componente perché se no la paura non gestita diventa in coscienza il nostro ospite federico boglietti grande navigatore con una grandissima storia ed esperienza alle spalle che ci ha raccontato un po tutta la sua carriera gli ultimi anni e soprattutto ci ha dato un'anticipazione per la prossima stagione 2024 bisogna viverlo bisogna viverlo per secondo me anche per poter poi serenamente parlare ragion veduta anche di quelle cose che che non ci piacciono che col tempo cambiano ma che comunque rappresentano l'attualità di questo sport se volete sapere quali saranno gli obiettivi futuri di questa stagione 2020 24 di federico boglietti e di elvis chantre dovete seguirci mercoledì 14 febbraio alle 21 su on tv web